Se il cibo di strada è stato il protagonista del weekend aretino, al centro dell'inizio della settimana ci sono indubbiamente le polemiche. La tre giorni di street food si è conclusa con un boom di presenze. Le golosità, i sapori e le specialità arrivate da tutta Italia hanno richiamato un gran numero di aretini e non solo al Parco Pertini. Bilancio davvero positivo perché non pensavamo, speravamo ma non pensavamo di raggiungere certi risultati. E riempire tutto il cerchio largo del Cantallaghetto è stata un'impresa, una sfida, una scommessa che abbiamo vinto insieme al Comune. Ma all'indomani della conclusione della manifestazione non sono mancate le prime polemiche e segnalazioni. Sono stati infatti alcuni residenti della zona a riportarci il disagio subito a causa del volume troppo alto della musica. Su questo posso dire che abbiamo interpellato un ingegnere del suono che è intervenuto il primo giorno, nel primo concerto, per fare delle rivelevazioni. Non ero tenuto a farlo ma l'ho fatto per tutelarmi e quindi per prevenire, perché immagino siamo nel parco, davanti ci sono i palazzi, tanto di via Giotto che di via 25 Aprile, soprattutto, sono questi due lati e questo ingegnere si è posto a tutti i quattro punti cardinali, se così si può dire, intorno al palco. E ha rilevato che, considerato il settore della città, che è il settore 3, in cui siamo nel parco Giotto, le rilevazioni risultavano come 3 decibel sotto la soglia minima prevista. All'alba del day after, a scaldare nuovamente gli animi dei residenti alcuni rifiuti rimasti nelle prime ore del giorno ancora all'interno del parco. Questo noi abbiamo proprio voluto, fin dall'inizio, come progetto di evento, interpellare tanto Sei Toscana, che è quella che comunque gestisce poi lo smaltimento finale dei rifiuti, ma per conferire, ovviamente dall'interno del parco, i rifiuti a Sei Toscana, abbiamo interpellato Cooperativa Futura, che ha fatto un lavoro egregio. La Cooperativa Futura, ovviamente, è andata via mezzanotte, noi ancora avevamo da smontare, da finire di pulire, quindi sono avanzati anche altri rifiuti, che sono stati comunque raccolti in dei sacchi. Il loro ultimo intervento è stato quello di intervenire all'apertura dei cancelli la mattina, la stamattina, quindi lunedì di 11 aprile, all'apertura dei cancelli alle 7, per raccogliere tutto quello che era stato ammocchiato. Ovvio che se qualcuno che giustamente tiene la propria città e vede e ha visto certi rifiuti da una parte, probabilmente ancora la Cooperativa Futura non c'era arrivata.